e what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo e probabilmente ultimo episodio su remoddered broken porcelain vediamo ragazzi di riuscire a raggiungere anche in questo caso gli 80 like e che c'è da dire signore e signori che sinceramente voglio che questo gioco finisca per vedere più che altro dove alla fin fine la storia voglia andare a parare perché fino ad ora sinceramente non l'ho tanto capito ovviamente hanno voluto comunque dare uno scerare un po' più chiaro della questione fenoxil della questione dell'ipnosi madracheronsia bla 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 di qua di là fatto sta ragazzi che diversi di voi convengono con me sul fatto che con questo gioco ragazzi hanno fatto veramente un gran casino soprattutto dal punto di vista comunque anche della storia che sicuramente comunque avrà anche avuto tanto da offrire ma è stata proprio ragazzi smerdata dal modo in cui è stata raccontata fondamentalmente e ci si è capito veramente poco e niente l'unica cosa che si è capita che c'è stato un colpo di scena di Jennifer appunto adesso ora come ora non si sa che fine abbia fatto fatto sta che l'ultima volta ragazzi ci eravamo ritrovati qua dopo che Jennifer aveva provato a fuggire è stata inesorabilmente praticamente riacchiappata e riportata qua all'hotel per cui io la volta scorso ho fatto un errore ho detto adesso che il gesto significa che siamo nel passato non è così adesso che il gesto proprio perché è il gesto ragazzi siamo nel tempo presente tra virgolette del flashback ok quindi non ci sono più flashback nel flashback proviamo a dirla così e non lo so ragazzi che non è semplice ma è così che funziona allora quello che dobbiamo fare adesso è trovare la chiave del ripostiglio il punto è dove la trovo la chiave del ripostiglio io non mi permettono manco di correre tra l'altro per assurdo io non capisco perché non mi apre le porte come si deve perfetto qua possiamo salvare la partita direi di farlo visto che ci siamo anche se non abbiamo fatto assolutamente nulla ma quindi la chiave del ripostiglio non è qua raga perché non mi apre la porta cioè adesso devo cominciare a smadonnare già adesso per favore no ok adesso sì adesso possiamo correre perfetto cosa c'è qua per terra chiave falena così totalmente a caso vabbè suppongo che la chiave del ripostiglio non sia qui probabilmente è alla reception ragazzi e se lo sapessimo ok ok io sono entrata totalmente a random ragazzi qui dentro a quanto pare era qua che dovevo entrare va bene i casi della vita ha detto che dovrebbe esserci una chiave qua intorno così va bene richiudiamo il cassetto ah eccola è questa perfetto ah caspita è Wyman ok ma perché ci sta parlando adesso cioè tra l'altro quindi dice di trovare Lynn, di fermare l'ipnosi bla 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 vediamo se ci riusciamo in ogni caso qua è come se stesse ancora agendo effettivamente Gloria Ashman a quanto ho capito ma è tutto estremamente confuso ragazzi non è semplice non è per niente semplice vabbè adesso che ho la chiave del ripostiglio va bene adesso di nuovo non mi fanno correre ragazzi così totalmente a caso anche in questo caso va bene cos'è sta roba ma effettivamente qual è il ripostiglio scusate questa è la cella frigorifera che cazzo di domande faccio pure io perché non mi fanno correre adesso che ci mette una vita questa randa da una parte all'altra perché adesso non mi fate correre voi siate maledetti raga cioè sembra che veramente hanno fatto di tutto di tutto per far odiare questo gioco cioè per far sì che il videogiocatore odi questo gioco sembra fatto apposta ma è così ah non è che è con te che devo parlare no guarda caso ok ha detto che praticamente sta tipo manipolando i ricordi e fare in modo che non esista nessuna lean fatto sta che non corre adesso inspiegabilmente non corre ok continuo a dire quello che stavo dicendo un attimo fa sembra che si siano impegnati ragazzi al 3000 per cento per far sì che il videogiocatore il videogiocatore non sopporti questo gioco ragazzi vi ripeto io capisco tutto capisco che la storia dietro possa essere bella solo che l'hanno resa fin troppo incasinata ah il ripostiglio era fuori aspetta un attimo adesso che mi sta rivenendo in mente sì ma perché non corri figlia mia perché hai perso immediatamente la capacità di correre io non capisco ok il ripostiglio era questo se non erro magari mi sto ricordando male io ok meno male grazie al cielo cosa abbiamo qua quindi ah ah ok un altro taglio così netto appena detto dobbiamo andare allo scaldavivante tac così allo scaldavivante che cazzo sto dicendo pure io raga cioè non ce sto capendo ah prima dell'incendio al convento l'incendio al convento l'incendio al convento l'incendio al convento l'incendio al convento god no what are you talking about no I forget everything that's enough you know that I would never use that shit on you oh my dear it's for their own good you don't want them to suffer any longer do you I don't wanna hurt them and you don't want them to hurt Ashlyn and I right Sì. Non ci posso credere, hanno fatto appiccare a lei l'incendio del convento, ma veramente? E ora chi c'è? Eccolo qua. Ok, sentite sempre ragazzi il metronomo in sottofondo. Cioè, quindi hanno fatto sì che appiccasse lei l'incendio al convento, ho capito bene. Ok, siamo... ok, direttamente passati di sotto, perfetto. Non so cosa dire. Cioè, quindi l'hanno fatto fare a Lynn, praticamente. Ottimo, davvero ottimo, guarda. E adesso che devo fare? Boh, adesso non si capisce. Vabbè. Ok, è nel loop ipnotico e va bene. L'alto parlante. Quindi dovremmo tornare all'alto parlante. Ma noi il mangianastri ce l'abbiamo adesso? No. Usa il mangianastri con il microfono. Ok, quindi devo tornare direttamente lì. Ho capito bene? Perché... Regà, a certe volte mi sento veramente talmente stupida che non so se... Ho capito bene quello che devo fare oppure no. Per cui il passaggio segreto era di qua. Il problema è se adesso ci sarà il nostro caro amichetto ad aspettarci. Io mi auguro sinceramente di no. Per quell'altra porta... E qua potevo passare direttamente dalla stanza. Eccoci qua. Salve, mi permettete già di usarlo questo affare? È rotto? Quindi devo andare alla sala cinema? Minchia. Ecco, guarda qua. Oh, shit. Eh vabbè però. Quindi minchia, devo tornare fino alla sala cinema. Madonna santa, regà. Fino all'hotel. Ok, sentire sti passi non è per niente confortante, ma... C'è, regà. Ok, quindi devo tornare fino a sopra. È possibile? Ma se qua c'era un proiettore... Non ricordo. Eh, salve, buono. Ah, è chiusa infatti qua. Niente, devo tornare veramente di sopra allora. Mi sono ingarbugliata da sola. Ahia! Ecco, questa è stata proprio colpa mia. Eh vabbè però, lasciamo in pace, figlio di una grandissima sossa. Eh, fu 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 fu. Le palle proprio, le palle. Va bene, vorrà dire che tornerò fino a sopra. Che dobbiamo fare? Se è quello che dobbiamo fare... A me continua a sembrare assurdo che io adesso debba tornare fino a sopra, ma... Ecco, infatti... Eh... Immaginavo che non poteva essere così. Immaginavo. Passerà... Eccolo, arriva. Invece avrei scommesso le palle che non dovevo veramente tornare fino a sopra. Eh, ciao zio. Eh, guarda, è una storia lunga. Io non so che cazzo devo fare. Sinceramente capisce a me, non è semplice. Questo adesso sarà un bel problema, ragazzi. Ah, di qua possiamo entrare. Perfetto, di là era chiuso, però di qua possiamo entrare. Quindi è qua? La pellicola? E questa? No? Cioè, devo andare... Ma come faccio a tornare fino a sopra? Cioè, scusate, mo' seriamente. La chiave della falena, mi ci pulisco sinceramente le chiappe, ragazzi. Mo' farei il giro, il tizio mo' ha visto. Ma... Cioè, che volete che faccia a questo punto delle cose? Non è questa la pellicola che devo prendere? D'accordo, come torno di sopra, cazzo? E dai, cazzo, muoviti! Dio, ma porco... Allora ragazzi, io credo di aver capito cosa devo fare, ma il gioco purtroppo ha crashato, quindi ho dovuto ricominciare dall'autosalvataggio. E quindi dobbiamo risorbirci l'animazione di lui che esce, appunto, da quest'altra porta segreta. Ed è proprio, penso, da questa porta segreta che dobbiamo entrare, ragazzi, adesso. Perché lì, dallo sposta vivande, cazzo, mazzo, lì non si può tornare. Nella sala di proiezione che abbiamo qua non è possibile prendere nulla, perché... Quindi suppongo che l'unica strada che ci si è aperta è questa. Suppongo proprio di sì. Il punto... È che lei adesso mi è morta malissimo un attimo fa. Per cui l'unica cosa che dobbiamo fare, ragazzi, è cercare di evitarlo e rientrare da lì, praticamente. Quella è l'unica cosa che possiamo fare, credo. Quindi proviamo, ragazzi. Proverò a schivarlo qua e vediamo un attimo... Ecco, è rientrato giusto lì. Ma va, fangulo, va! Mi scusi, buon uomo, ma ho una certa fretta, davvero. Ok, vediamo che cosa siamo riusciti a fare. Se sono riuscita a fare un qualche progresso. Continuo a rimanere in vita. Ah, ecco. Oh. Sì. Aveva dei passaggi segreti, praticamente. Allora, nell'ala vecchia, dice qua. Come ci si arrivava all'ala vecchia? Se non sbaglio era di qua, se la memoria non mi inganna. Sì, era di qua. Per cui intanto, visto che ci siamo, salviamo, nel dubbio. Perché non si sa mai, come al solito. Questo è il mio motto, lo sapete tutti. E quindi l'ala vecchia era di qua, esatto, sì. Non credo che sia così facile, perché la stanza cinema è sempre stata maledettamente chiusa, comunque. Quindi non credo che adesso sarà aperta giusto per noi, eh, infatti. E te pareva! Andrea! E che abbiamo qui? Non dovresti essere riuscita il ruolo 212. Lo stesso, e sono, è proprio... C'è... 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 C'è una possibilità di avere una calza per il ruolo del cinema? Ashmann ha chiesto di riuscita un po' C'è il migliore che tu puoi fare, dopo la messa che tu hai fatto. Ok, allora... C'è qualcosa di vero. In ogni caso, sarò molto rapido, e poi sarò tornare a riuscita il ruolo 212. I can't help you. After what you did, Mr. Ashwin insisted that no one else was to have access to the cinema room but himself. He has the only key, and I believe he's taking a nap in his room right now. I'll be quick. Let me speak with him. Young lady, don't make me say it again. Go to room 212 and do your job! Hmm. Quindi non c'è modo. Devo andare alla camera 212 davvero per forza? Di nuovo non mi fa correre, ragazzi. Allora, adesso non so se è perché stiamo dietro al culone di Andrea, ma se non sbaglio è questa la stanza di Katzmann. Ok, quindi dovrei entrare qua. In effetti, ma se c'è appena entrata Andrea. Andrea, ti posso dare una botta in testa? Inganna Andrea. What the fuck? Che significa? Inganna Andrea. Che por di? Inganna Andrea. Non ho più armi per poterla colpire, ma stiamo scherzando. Per una volta sono riuscita a farla al primo colpo. Questa è sfiga, ragazzi. E mo' dove lo trovo un altro oggetto contundente? Mannaggia santa, mannaggia. Mo' lo devo andare pure a cercare. Palle. Per una volta che ero riuscita a fare qualcosa... Così... Di primo colpo, ragazzi. Mo' me devono rompere le palle. E devo andare a cercare per forza un altro oggetto contundente. Sperando che io lo trovi. Questo può essere considerato contundente per infilzarla? Io non credo. A parte che adesso non mi promettiamo più di selezionarlo. E dai però. E dai però. Anche, devo cliccare così a caso, sperando che lo prenda? Dai, ti prego. Oddio, ok. Ho preso. Non so se questo è considerato un oggetto contundente, ma... Possiamo riprovare. Così totalmente a caso, ragazzi. Ce l'avevo un oggetto contundente. L'ho usato, ma non è bastato. Ecco. Non te pareva. Sìììì. Benissimo. Ci metterò una vita. Ci metterò una vita. Potrei usare l'occhio della falena. Eh vabbè, però se già sei qui che mi aspetti a braccia aperte, figlia mia. Ok, ok, ok. Potevo, potevo farlo, potevo farlo. Potevo farlo! Mi era uscita l'icona! Rega, non si affronta. Lo posso fare sì o no? Ti prego. Fatemelo fare, fatemelo fare. Perché mi esce l'icona e poi mi sparisce? Cazzo! Dai! Ecco qua. Lo premo così a caso. Ecco, pure se ho premuto totalmente a caso non me l'ha fatto fare comunque. Quindi non credo che questo sia considerato oggetto contundente a questo punto. Anche perché c'è... Come l'ha infilso con una paletta? Di nuovo. Rega, mi sa che mi conviene andare a cercare un altro oggetto. Vediamo qua se troviamo qualcosa di contundente. Un tagliacarte, ma non è questo il posto adatto per un tagliacarte. Oddio, dovrei tornare a prendere le forbici magari. Ok, proviamo a guardarci intorno qua, ma non credo di trovare qualcosa di utile qui. I miei grossi dubbi di trovare un altro paio di forbici qua. Tra l'altro già le avevamo usate. Un altro oggetto contundente? Chiave? No, non è quello che mi serve. Rega, questa cosa... Già lo sto vedendo. Mi farà perdere veramente... Cazzo gridi, cazzo gridi. Mi farà perdere veramente un sacco, un sacco di tempo. Perché se non posso usare la paletta, per quanto comunque l'icona esca sulla testa di Andrea... Andrea, ti lasci tirare una palettata in testa. Sarebbe... Ecco, vedete? È apparsa ed è scomparsa di nuovo. Vedete? Adesso non compare più. Ecco. Cioè, pure se clicco mi sa che non succede niente comunque, ragazzi, eh. Perché esce l'icona del mouse. L'avete vista tutti. Perdiamo un sacco di tempo. Vedete? Vedete? O non esce, o se esce e io clicco non succede un emerito. Cazzo. Ho premuto. Ho premuto. Non è successo assolutamente niente. Va bene. Allora, qua non c'è niente. Rega, prima di trovare un altro oggetto tipo un tagliacarte o un paio di forbici, mi sa che ci possiamo fare vecchi nel frattempo, eh. Quindi auguratemi buona fortuna. Sperando di poterlo trovare. One eternity later. Cioè, rendete conto, ragazzi, che ho usato... Io non so se è perché bisogna farlo due volte. Perché ce l'avevo l'oggetto giusto per infilzarla. Ma forse non era il momento adatto per usarlo. E quindi adesso mi sono fregata con le mie sole mani, ragazzi. Ah, ecco qua, un paio di forbici. Fammele prendere. Grazie, grazie al cielo. Grazie al cielo. E grazie al cielo, e grazie al cielo, grazie al cielo, grazie al cielo. Sperando adesso di ritrovare la strada. Fatemi salvare la partita. Mamma mia, ragazzi. Cioè, si perde più tempo per fare queste stupidaggini che per veramente assistere ai filmati e tutto il resto appresso. Ok, vediamo se ci riusciamo. Una volta per tutte. Vedete? Adesso mi scomparsa di nuovo l'icona, ragazzi. Adesso ho le forbici, eh. Adesso ho le forbici. Ok, quindi... Perché non me lo fa fare? Perché gli devo proprio stare... Eh, vabbè, purtroppo. Tutto però, raga. Cioè, così non si affronta. O devo usare l'occhio della falena in qualche modo. Che ne so, proviamo. Ok, però muoviti. Perché? Perché non ha funzionato? Per una volta che stava funzionando, potevo colpirla. Perché non mi fa... Perché? 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 Dov'è Andrea? Sparita. Cioè, allora, l'occhio della falena non serve un cazzo. Perché nonostante lei sia confusa dalle falene, ci vede lo stesso. Fondamentalmente questo significa. Oh, raga. Non mi fa fare, eh. Non mi fa cliccare. Non me lo fa usare il comando. Porca miseria, ladra. Non me lo fa usare. Eh dai, però. Ma perché? Oh! Raga, ma sono rimbambita io? Sarò rimbambita io? Probabilmente. Non lo so. Perché non... Non mi fa premere col mouse. Raga, vedete perché? Io posso capire, magari, che uno dice, eh... Una bella storia di qua di là, però, raga. Cioè, oh. Ho capito, raga. Può essere bella storia il cazzo che vi pare. Però, cioè, se uno è costretto quando gioca a subire un gameplay del genere... Cioè, raga, bella storia. Regge fino a un certo punto. Mo scusatemi, ma... Cioè, non ce n'è. Non ce n'è, raga. Non ce n'è, non ce n'è. Non mi fa... Non me lo fa fa. Non me lo fa premere. Non me lo fa premere. Cioè, raga, non riesco. Non riesco. Cioè, non so se sto sbagliando davvero qualcosa io. O dove risiede il problema. Perché non... Non è possibile. Cioè, ho le forbici. Ho tutto. E non me lo fa fare. Vedete? Cioè, se mi avvicino troppo sparisce il comando e non me lo fa fare. A che distanza devo stare? Non ho capito. Non mi è tanto chiaro. E adesso mi avvicino. Ecco, adesso giustamente lei se ne va via veloce. È ovvio, ma vaffanculo, va. Raga, non è tollerabile tutto ciò. Raga, non si affronta veramente. Perché non può essere così. Non può essere. Io che mo' mi riavvicino. Tanto lei mi vede. Di nuovo. Vedete? Vedete? C'era l'icona, ragazzi. Ho premuto e non è successo assolutamente niente. Cioè, ma che cazzo? Ma o si è buggato, ragazzi? Perché, cioè, che cazzo di spiegazione c'è? Cioè, non è possibile. Poi sparisce e non compare mai più l'icona. Sparisce e non compare mai più. Cioè, raga, fatemi venire da ridere ma sto cercando veramente di mantenere quanta più calma possibile ma questo non è più possibile. Cioè, non è più tollerabile. Scusatemi, eh. Cioè, non è più tollerabile, raga. Che altro cazzo devo fare? Vedete, eh? Non me la fa fare. Non me la fa colpire. Ma perché? Cioè, raga, è uno scandalo. Scandalo. È uno scandalo tutto ciò. Non è possibile. Cioè, non so cosa fare. Raga, non so veramente se sto sbagliando io qualcosa ma è assurdo. Cioè, cosa sto sbagliando? A premere un bottone? Vedete, scompare l'icona, scompare e non compare mai più. Va bene. Raga, secondo me si è buggato. Cioè, non c'è... Non c'è molta spiegazione. Ragazzi, sto per alterarmi sul serio. Sto per alterarmi sul serio. Perco... Ma le fai usare ste cazzo di forbici di merda! Minchia! Su, cazzo! Raga, non me lo fa fare. Secondo me si è buggato. Cioè, non c'è... Non c'è molta altra spiegazione. Il punto è che io adesso ho anche salvato la partita qua. Io ho anche salvato la partita qua. Quindi devo provare a ricaricare l'autosalvataggio e vedere se cambia qualcosa. Ok, ci tocca rifare questo. Quindi io non salverò la partita. Non posso manco saltare. Ah, posso saltare grazie al cielo? Bene, aspettiamo che lei entri e aspettiamo che esca proprio la... la... la dicitura. Colpisce Andrea o quello che cazzo è? Vediamo. Se mi fai uscire l'obiettivo non colpirò Andrea prima, perlomeno. Ok. Ok, inganna Andrea. Quindi non colpisce Andrea. Perfetto. Adesso io ho lo stesso rastrellino di prima. Vediamo. Regà, di nuovo. Cioè, no. Vi prego, eh. Cioè, perché non può essere normale tutto ciò. Vi prego. Ditemi che è un sogno. Che è un incubo. Ditemi che è un cazzo di incubo. Vi prego. Ditemi che è un incubo. Accidenti. Regà, cioè, io prima sono riuscita. Perché adesso non riesco più? Perché non riesco più? Perché? Perché scompare, scompare quella cazzo di icona? Perché? 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 Perché non mi dà il tempo di premere? Perché? Perché non mi fa più premere, porco... perché? Oh, regà, io ho premuto a ripetizione, eh. Cioè, non poteva mancarla l'icona. Io non mi ricordo cosa ho fatto prima. L'ho colpita. Cosa cazzo avevo fatto prima? Cosa avevo fatto prima? L'avevo colpita? Non mi ricordo. Non mi ricordo se l'avevo lanciato uno... Comunque, regà, pure ste cazzo di icone che non compaiono! Accidenti! Non si sa come devi mettere la telecamera per farle comparire. Cazzo! utilissimo! Utilissimo! Cioè, non... Cioè, non è possibile, regà. Non è più ammissibile tutto ciò. Ma veramente non è più ammissibile. Cioè, tra l'altro, perché la dovrei colpire questa qua, mo? Cioè, non ha... non ha senso. Non ha un cazzo di senso. Oppure è sprecato la bottiglia. Cioè, ragazzi, non... Io non so veramente più cosa cazzo dire, cosa fare, cosa pensare, non lo so. Io so solo che sono altamente disgustata, ragazzi. Perché veramente sono solo ed unicamente disgustata. Penso che sia il termine più corretto da usare. Veramente non c'è non c'è modo, cazzo, per farlo di nuovo. Non c'è modo. Oh, niente, non c'è modo per farlo di nuovo. Cioè, sono riuscita a farlo alla prima che non dovevo forse ancora farlo e adesso che lo devo fare non riesce più a farlo. Ma perché? Perché, cazzo, perché non me la fa colpire? Perché? 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 Oh, regà, non c'è niente da fare. Non c'è proprio un cazzo da fare, inutile. Cioè, non... Io non riesco. Boh. Cioè, sarò rincoglionita io. Può essere che sono rincoglionita a tal punto io? È probabile? Perché c'è un'altra spiegazione. Non la riesco a trovare, ragazzi. Evidentemente sono rincoglionita io. È probabile. Cioè, non è possibile. Oh, regà, avete visto? Avete visto? Io l'ho stordita, ero là dietro, non compare la fottuta icona. Non compare, non c'è niente da fare. Cioè, ragazzi, io sono qua da 40 minuti. Cazzo! 40 minuti! E non riesco a procedere! Vi sembra normale? È normale, ragazzi? Cioè, sono 40 minuti che sto qua e non ho visto un cazzo di nuovo. Cioè, ragazzi, arrivare più stealth di così alle spalle del nemico per poterla colpire, come avevamo dovuto fare all'epoca, che pure ci avevo speso mezz'ora per riuscire a fare quella roba lì, sembra impossibile. Cioè, sembra, ecco qua, vedete? Compare un secondo e poi scompare. Ok. È ottimo proprio, fantastico. Proprio non plus ultra, ragazzi, dello schifo! perché cazzo urli? Solo un cazzo di bottone che non mi fa premere, manco se l'assordisco. Cioè, ragazzi, io non... io non riesco. Cioè, non riesco più, ripeto, o sono rincoglionita io e non sto capendo qualcosa che devo fare ma è assurdo, prima ci sono riuscita, mo non ci riesco, la modalità è la stessa, o c'è qualcosa veramente che non va più nel gioco. Non posso stare più tempo di così, il tempo a mia disposizione per oggi è finito, quindi ho sprecato il mio tempo a disposizione per fare questo. Adesso io pretendo che qualcuno di voi mi spieghi cosa sto sbagliando, perché evidentemente sono fin troppo stupida io per riuscire a capire cosa diavolo sto sbagliando. Per cui, ragazzi, mi dispiace, ma l'episodio di oggi finisce così, quindi niente, questo video termina qui, grazie a tutti, arrivederci, ragazzi, vi voglio bene, tanti saluti e chi si è visto, si è visto.